Il professore Emilio Ghiani dell'Università di Cagliari. Quali sono i vostri progetti di ricerca riguardo alle fonti rinnovabili che state presentando qui a EnergyMed? Nello specifico stiamo presentando un progetto che riguarda la realizzazione di una microgrid sperimentale che vedete qua descritta in questo poster che abbiamo mostrato qua nel nostro stand e anche abbiamo fatto stamattina un incontro. L'obiettivo di questa microrede sperimentale è quello di realizzare un sistema che possa essere autosufficiente dal punto di vista energetico e che possa, nel caso l'utente finale lo voglia, anche eventualmente staccarsi alla rete elettrica principale cui è connesso.